Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Due comunità, quella teramana e quella ascolana in lutto. Federico Di Battista, originario di Teramo ma residente ad Ascoli Piceno, avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 2 agosto. Un dramma, quello che si è vissuto ieri sulla bonifica del Salinello, che si è consumato proprio sotto gli occhi della sua fidanzata che lo seguiva con l'auto. Vivevano a Porta Romana, un quartiere della città delle Cento Torri, e è stata proprio lei a prestare i primi aiuti a chiamare i soccorsi. Entrambi, stando alle prime indiscrezioni, dovevano passare all'Aquapark Onda Blu di Tortoreto a circa 700 metri dallo schianto, per poi andare al mare a Cologna Spiaggia, ma la coppia non è mai giunta a destinazione. Purtroppo, stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Tortoreto, il motociclista è in sella ad uno scooter Honda SH-150 che procedeva da Monti verso mare, all'altezza di Contrada Salino, giunto in prossimità dell'ampia curva che si trova nei pressi della discarica, ha impattato per cause in fase di accertamento con una Renault Megane condotta da un 52enne del posto. Lo schianto è stato violentissimo e il centauro che indossava il casco è stato sbalzato per decine di metri di distanza. La sua compagna, dietro di lui, si è precipitata sul punto dell'impatto sul posto è giunta l'ambulanza medicalizzata dell'ospedale di Sant'Omero e il personale sanitario ha tentato di rianimare il 41enne, ma non c'è stato nulla da fare. Federico lascia anche un figlio minore, aveva la passione per le barche a vela, tanto che non appena poteva si recava al porto di Giulianova dove l'ozione aveva una ormeggiata. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi, al conducente della Renault sono stati eseguiti gli esami di alcol test e drug test. La Salma si trova all'obitorio del Mazzini di Teramo per l'autopsia.